Qual è il rapporto tra i cantieri e la sostenibilità? Gli ultimi vent'anni hanno investito appunto il settore delle costruzioni. Cos'è un cantiere sostenibile? È un cantiere in cui tutti gli aspetti, quindi la gestione delle acque, del suolo, dei rifiuti, delle terre, vengono tutti visti attraverso una grande lente che è quella della sostenibilità e quindi vanno appunto riflettuti e progettati in questo senso, quindi rendere sostenibile il cantiere. Per tanti anni diciamo che la sostenibilità, l'impatto ambientale nel mondo delle costruzioni ha riguardato l'opera finita e si è sempre parlato poco invece di quello che era il cantiere, quando noi tutti sappiamo che spesso le città si trovano più a dover subire gli effetti negativi della fase di cantiere che non poi gli effetti positivi dell'opera costruita. Spesso i cantieri durano anche tanti anni, quindi è importante, è un tema di importante discussione, per ora non è previsto ancora da nessuna norma, ma diciamo che è un po' affidato alle best practice, alla buona pregettualità che viene fatta del cantiere.